La missione della Chiesa in America Latina deve costruirsi giorno per giorno in un corpo a corpo abbandonando l'area condizionata degli uffici, le statistiche e le strategie astratte. Ai membri del Comitato Direttivo del CELAM incontrati nell'Annunziatura Apostolica, Papa Francesco ha raccomandato di portare la speranza per le strade del continente, coltivando sempre un rapporto stretto con Gesù. E oggi essere al servizio del bene vuol dire lavorare senza stancarsi per costruire ponti, a battere muri, integrare le diversità, promuovere la cultura dell'incontro e del dialogo, educare al perdono e alla riconciliazione, al ripudio della violenza e al coraggio della pace. Nel lungo intervento il Pontefice ha anche rimarcato che la speranza in America Latina ha un volto giovane e un volto femminile, perché le donne sono artigiane del bene. Oggi c'è bisogno di passione, ha concluso, mettere il cuore in tutto quello che facciamo, passione del giovane innamorato e dell'anziano saggio, passione che trasforma le idee in utopie praticabili, passione che ci trasforma in incessanti pellegrini nelle nostre chiese.